Slitta di un paio di giorni l'annuncio del nuovo allenatore dell'Arezzo, probabilmente mercoledì arriverà la fumata bianca. I nomi caldi sono sempre due. In Pol sembra esserci sempre Massimiliano Alvini, 48 anni, toscano di Fucecchio, lunga la sua gavetta cominciata con i dilettanti quando portò il tutto cuoio dal campionato di eccellenza fino a arrivare alla Serie C. Poi c'era stata per lui una parentesi non molto positiva a Pistoia prima del nuovo trampolino di lancio con l'Albino Leffe che in questa stagione ha chiuso il quinto posto centrando i play-off. L'altro nome caldo è quello di Maggi dopo le ottime stagioni in cui ha conquistato due promozioni consecutive dalla Serie D alla Lega Pro con Maceratese nella stagione 2014-2015, poi nella stagione 2015-2016 portandolo al sesto posto. Meno positiva l'esperienza nella stagione appena conclusa con il Bassano è stato esonerato a dicembre proprio dopo la sconfitta con il Gubbio. L'annuncio del nuovo allenatore dell'Arezzo sembra essere imminente, non si escludono ulteriori sorprese, Pieroni e Testini sono sempre al lavoro.